Vengono usati come sinonimo di libertà, libero come un uccello, solo gli uccelli e l'aria non hanno confini, la gabbia non nutre l'uccello. Volano in stormo, formazioni perfette anche se sono a centinaia, ognuno sa dove e quando virare. Ma ci sono anche quelli che non seguono gli schemi. Richard Buck ha ricavato la sua fortuna letteraria con il racconto sul gabbiano Jonathan Livingstone, che non voleva volare come tutti gli altri, ma superare ogni volta i suoi limiti. Chissà se anche sul nibbio di Vico nel Lazio ci sarà un Richard Buck che scriverà la sua storia. Lo hanno liberato il 24 marzo sui monti di Trisulti, insieme ad altri due nibbi, Bruni e Ungheppio. I rapaci erano stati curati dal corpo forestale nel suo centro di eccellenza che si trova a Fogliano. Tornati in libertà, hanno iniziato subito a volare sui monti, osservando il mondo dall'alto. Tranne uno. Ha virato e se n'è andato in piazza a Vico nel Lazio. Ha preso casa lì, tra i castagni di piazzale 24 maggio. Rapace sì, ma con i comfort della modernità. La gente lo ha adottato. Gli lasciano la carne cruda in piazza, lui si lancia, fa il suo spuntino e poi torna a volare sulla certosa prima di rientrare in piazza, sperando che nessuno arrivi a rimproverarlo e ad accusarlo di essere un rapace bamboccione.